Se ancora esitate a provare Starfield, il nuovo RPG d'azione di Bethesda, ecco a voi alcuni motivi che forse vi spingeranno a giocare a questo titolo dalla portata galattica. Sentire che Bethesda sta lavorando ad un nuovo gioco è come guardare un trailer cinematografico che contiene i nomi Christopher Nolan o Greta Gerwig, una garanzia di qualità. Con giochi come The Elder Scrolls V, Skyrim e Fallout 4, Bethesda ha definito e ridefinito più volte il genere degli action RPG, ha fatto incetta di premi per il gioco dell'anno e di recensioni entusiaste, ci ha regalato alcuni dei mondi videoludici più famosi, permettendoci di vivere folli avventure di ogni tipo, affrontare draghi, costruire insediamenti e fare scelte piuttosto discutibili dal punto di vista morale. Se il suo nuovo titolo fosse un simulatore di riorganizzazione di schedari o di pedate ai sassi, saremo comunque ansiosi di giocarci. Il fatto che si tratti di un'epica avventura fantascientifica in cui è possibile costruire astronavi e prendersi a colpi di laser non è che un incentivo. Come abbiamo già detto, amiamo le desolate terre radioattive di Fallout e i magici reamidi di Elder Scrolls. Ci abbiamo trascorso centinaia di ore felici, nonché diversi momenti orribili, e sono universi che continueremo a visitare per anni. Ma quanto è emozionante esplorare posti completamente nuovi. L'immenso mondo fantascientifico di Starfield è il primo universo originale creato da Bethesda in più di 25 anni, e già questo basterebbe a renderlo uno dei più grandi eventi videoludici dell'anno. Ma una volta scoperto quanto è pieno di vita, dettagli e pirati truculenti, è difficile voler essere altrove. Starfield non si limita a mettere a nostra disposizione un intero universo, ci lascia pure definire in dettaglio chi vogliamo essere. Si inizia decidendo l'aspetto fisico del personaggio con i nuovi e dettagliatissimi strumenti di personalizzazione di Bethesda. Ma non è solo l'apparenza a contare, bella o brutta che sia. Si deve anche scegliere un background e dei tratti chiave che cambieranno in modo imprevedibile la nostra vita su Starfield. È un gioco di possibilità quasi infinite, che permette di stabilire con precisione il passato, il presente e il futuro del proprio personaggio. No, non avete letto male. Starfield ha più di mille pianeti da esplorare. Tre zeri. Contateli pure, io aspetto. Non pensate che questo sia a scapito della qualità, perché ogni pianeta di Starfield è un vero mondo a sé stante, con un'atmosfera basata sulla distanza dal Sole più vicino e i livelli diversi di gravità da sfruttare a proprio vantaggio e in combattimento. Ci sono pianeti abitati e avamposti di frontiera senza legge. Città fiorenti e pericolose basi colme di nemici temibili. Per riassumere, su Starfield i posti da visitare non finiscono mai. E vale davvero la pena di esplorarli tutti. Mentre certi pianeti sono deserti brulli, ma ideali per le attività minerarie, altri sono pieni di flora e fauna di ogni tipo. Alcune di queste specie sono pericolose, altre possono essere addomesticate, ma sono tutte ugualmente interessanti perché ogni pianeta ha un proprio florido ecosistema. Anche se la natura non vi piace, scoprirete che questi biomi, pieni di vita, sono pure colmi di risorse preziose con cui fabbricare di tutto, dal cibo alle medicine. Un bel incentivo per diventare dei veri esploratori dello spazio. Ma le vere stelle del nuovo gioco di Bethesda non sono le enormi sfere di gas incandescente che scintillano in cielo, bensì i personaggi che incontrerete durante le vostre avventure. Starfield ci permette di reclutare compagni di ogni sorta, che non si limitano a farci da facchino o da braccio destro in combattimento. Ognuno di questi personaggi, accuratamente tratteggiati, ha una propria storia su cui costruire un rapporto unico. In certi casi quel rapporto potrebbe addirittura prendere una piega romantica, ma questo ve lo spiegherò quando sarete grandi. Ma la galassia di Starfield è popolata, oltre che dai membri del nostro equipaggio, anche da altri personaggi indimenticabili come gli esploratori di Constellation, i temibili pirati della flotta Cremisi e gli avventurosi cowboy del collettivo Freestar. Con tutti questi posti e persone da visitare, un'astronave personale è indispensabile. Questo è un altro aspetto in cui la passione di Bethesda per la personalizzazione porta a qualcosa di davvero speciale. Starfield ha un menu di costruzione delle navi davvero incredibile, che permette di creare la nave dei propri sogni, personalizzandone ogni dettaglio estetico ma anche tecnico. E non si è limitati a una sola nave, è possibile comprare, costruire o rubare un'intera flotta di veicoli, così da averne uno per ogni occasione. Una volta che vi sarete procurate una nave nuova fiammante, non vi resterà che partire per lo spazio profondo e trovare qualcuno da disintegrare. I duelli tra navi di Starfield sono intensissimi e necessitano di sangue freddo e riflessi fulminei per gestire e ridistribuire l'energia tra i vari sistemi della nave in modo da potenziare le armi, gli scudi o il propulsore. Hanno tutte le sottigliezze tattiche di una partita scacchi, ma invece delle epidine ci sono i raggi laser. Volete mettere? Nelle profondità della galassia vi imbatterete anche in missioni casuali, stazioni spaziali su cui atterrare, e misteri di ogni tipo. Ma Starfield non rallenta neanche quando si scende dall'astronave, grazie alle eccellenti meccaniche di combattimento in prima persona, e a un vastissimo arsenale che spazia dalle tradizionali armi balistiche a tutti i fucili laser e al plasma che si possano desiderare. E le armi sono pure modificabili, quindi è possibile adattarle al proprio stile di gioco. Per quanto ottimizzate la vostra build, però, è meglio essere pronti al caos in cui vi ritroverete quando inizierete a combattere a gravità zero, e il rinculo della vostra arma balistica vi proietterà dal lato opposto della stanza. A rendere il combattimento ancora più dinamico c'è pure il boost pack, che permette di svolazzare qua e là in qualsiasi tipo di ambiente. Insomma, Starfield è il tipo di gioco in cui vi sfregherete le mani ogni volta che qualcuno vi punterà una pistola addosso. Ovviamente, per sentirsi davvero a casa propria nel gigantesco mondo di Starfield, ci vuole un posticino tutto per sé, o anche una dozzina. La possibilità di edificare e gestire il proprio avamposto aggiunge un'intera componente gestionale alla vasta saga spaziale di Starfield, oltre a influenzare il resto del gioco in modo significativo. Potete fondare uno stabilimento minerario, in modo che l'avamposto estragga risorse in vostra assenza, affidarne la gestione ai membri del vostro equipaggio e perfino predisporre un sistema di trasporto delle risorse tra i vari avamposti. Ma potete anche ignorare del tutto questa meccanica e vagabondare tra le stelle con la libertà di un nomade. Dopotutto, sta a voi decidere come vivere la vostra avventura. Insomma, eccovi ben dieci motivi da aggiungere all'enorme pila di ragioni per correre subito al Game Pass e provare Starfield. Ci si vede tra le stelle, ciao!